Ciao ragazzi, in questo video voglio farvi vedere il tutorial di questo trucco che è poi quello che ho utilizzato giorni fa nel video su lovemakeup.it che consiglio sempre di andare a vedere perché comunque ci sono dei prodotti veramente molto carini cosa dirvi, me l'avete richiesto voi, io ho deciso di farvelo nonostante vi avevo già detto in precedenza che era veramente semplicissimo, bastava accostare i due colori e il gioco era fatto niente, vi lascio il tutorial e vi faccio vedere cosa cavolo ho combinato ok, pronta con la mia fascia da battaglia, ho già steso la base e ho messo già un po' il blush che poi intensificherò di nuovo, so che questo video risulterà più chiaro dell'altro semplicemente perché sto utilizzando la videocamera mentre nell'altro visto che questo era secco di batteria ho utilizzato la fotocamera, quindi magari i colori possono sembrare diversi ma in realtà sono gli stessi quindi ho messo sia la base come fondotinta, cipre eccetera eccetera che la base per gli occhi e uso l'Elight Primer della Elfo che però adesso mi è sparita in questo momento ok, ora prendo un pennellino sempre a lingua di gatto e il mio primo pigmento che è quello sempre di Saffron che vi ho fatto vedere nel video di lovemakeup.it questo è il numero 03 non so se si legge, è scritto in fondo 03 lo prendo e inizio a stenderlo sulla palpebra mobile appena sotto della piega dell'occhio ok, diciamo che questi ombretti sono veramente molto pigmentati se vogliamo far apparire ancora di più le sfumature che hanno allora li bagno con un po' di makeup mist and set e passo soltanto sulla parte centrale proprio per illuminare un po' di più prima parte fatta a questo punto prendo il secondo pigmento che è sempre di Saffron è il numero 05 ed è quello viola lo prendo con un pennello sempre a lingua di gatto e delineo la mia forma appena sopra diciamo del pigmento verde voilà, faccio così poi prendo un pennello da sfumatura questo è quello di Zoeva è il numero 228 mi trovo veramente molto bene prendo sempre il pigmento di prima lo passo soltanto non è che ne prendo troppo e inizio a sfumare per intensificare un po' di più l'angolo esterno prendo sempre lo stesso pennello con lo stesso colore e lo bagno ok, ora prendo il pigmento di Neve Makeup il White Bunny che è quello bianco opaco con un pennello sempre da sfumatura questo qui è sempre di Zoeva ed è il Soft Define 227 questo qua lo porto sotto l'arcata sopraccigliare non mi vengono le parole e nel frattempo sfumo col viola ora come ultimi passaggi perché veramente io ve l'avevo detto il trucco era una cavolata prendo i matitoni che vi ho fatto vedere sempre della V7 si chiamano Ice Sticks questo è il bianco perlato e lo passo nell'angolo interno per illuminare prendo il famigerato e tanto odiato glitter gel della Pop questo qua verde e inizio a fare il duro lavoro qui farò andare molto velocemente il video per riuscire a fare una riga come da questo lato vedete di eyeliner verde qui brillantini quindi inizio a fare questo lavoro di precisione e pazienza è uscito abbastanza bene diciamo però è proprio molto faticoso metterlo ora prendo la matita nera e la metto all'interno dell'occhio riprendo il pigmentino verde questo qua e sempre con il pennellino che ho usato prima lo porto un po' sotto ora marcare marcare sempre il solito Supreme Volume della Techniwork come gloss questa volta cambio volevo mettere questo gloss lumiere sempre della TNS che qui sembra rosso ma in realtà poi è un po' più sul fucsia e questo qui si chiama Ocean Drive ok lo applico e voilà il trucco è finito non è proprio per niente qualcosa di particolare comunque è una cosa molto semplice cosa devo dirvi d'altro spero di non aver deluso le vostre aspettative ecco mi avete chiesto di fare questo tutorial ma non so ditemi cosa ve ne pare ma è proprio veramente una cavolata ah ho fatto le unghie con il set della Essence e devo dire che sono veramente molto fiche nel senso il l'apparenza è proprio quella di unghie ricostruite poi vediamo quanto durano vi farò sapere niente vi lascio al prossimo video dove probabilmente aprirò un concorso adesso devo ancora pianificare le modalità perché comunque con tutti questi problemi su youtube non ho ancora capito cosa si può e cosa non si può fare comunque ve ne parlerò nel prossimo video per adesso un bacione e alla prossima ciao ciao